Gentili telespettatori, buona giornata. E così Schlein dice, non sono io a dover rispondere a Meloni, ma lei che deve rispondere ai cittadini dei tagli sulla sanità e i tagli sulla scuola. In realtà i tagli sulla sanità non sono mai esistiti, non esistono tagli alla sanità. Il taglio alla sanità è quando tu prendi i soldi dell'anno precedente e dici erano 100, 95, taglio alla sanità. La Meloni questo non l'ha mai fatto, anzi quest'anno ha messo più soldi del dovuto sulla sanità come più soldi del dovuto sulle pensioni minime. Quindi la realtà è diametralmente opposta. Tagli alla scuola, diminuiscono i bambini, diminuiscono i giovani, ci sono meno classi e essendoci meno classi ci sono meno insegnanti, meno personale addetto. si chiude anche qualche scuola proprio per la mancanza di bambini, di studenti, bambini bambine come direbbe la Schlein, di studenti. Quindi il taglio alla scuola detto da Schlein sembra tutt'altro, in realtà fa ridere. Ecco, se voi lo spiegate come l'ho spiegato io, dice tagliato la scuola, hanno ridotto le classi e gli istituti perché ci sono meno bambini. Avete visto com'è differente la cosa? La Schlein è taglia la scuola! Ci sono meno classi, quindi si riducono appunto il personale eccetera eccetera. Vedete come la propaganda e l'ideologia fa raccontare le cose in un altro modo? Ma sulla sanità in realtà i tagli non ci sono mai stati. E poi andiamo avanti e lo dice è la segretaria del PD durante il suo intervento nella chiusura della campagna elettorale. Voi non ci crederete, ha ripetuto sempre la solita frasetta, non ce ne facciamo nulla di una premier donna che non aiuta le donne. Mamma mia! Allora, lei potrà ripetere sempre le stesse cose, sempre le stesse frasette senza neanche cambiare le parole. Quindi non è che mi stupisco di Elena perché Elena è così. Che deve fare? Insomma, ognuno è com'è. Lei è così, ripete sempre le stesse frasette perché probabilmente ha dei... E quindi... Pertanto io non mi stupisco di Elena che è Elena perché ognuno è quello che è, ognuno nasce come nasce ed è quello che è. Quindi non è che si può criticare Elena per quello che è, è così. Il punto è cosa ci fa a capo del PD e cosa ci fanno le persone in piazza ad ascoltare quello che dice. Questo è il punto, non Elena che è così, ma gli altri che vanno a inneggiare ad Elena. Eh, questo è il punto, perché ognuno è fatto a suo modo. Non è che si può... Tu puoi dire, non so, Toninelli è così. È così. Toninelli è nato, cresciuto, è così. Probabilmente noi ci siamo sempre chiesti cosa ci faceva al Ministero come Ministro. Al Ministero dei Trasporti uno come Toninelli. Quindi non è che si critica Toninelli in quanto tale. Si critica il fatto che era Ministro. Si critica il fatto che la Schlein è capo del secondo partito italiano. Questa è la critica, non per come sono, perché ognuno è com'è. A questo punto, lei nella chiusura della campagna elettorale a Perugia, ripete sempre, come vi dicevo, le stesse frasette. Non ce ne facciamo nulla di una premier donna, e ha tagliato la sanità, e ha tagliato la scuola. Quindi ripete sempre le frasi che ha preimpostato, le tira fuori così, a caso. E poi naturalmente esulta per la bocciatura della Corte Costituzionale per l'autonomia differenziata. E interpellata da ANSA, agenzia di stampa, a margine dell'evento, ha replicato alla premier che le chiedeva la sua posizione su Raffaele Fitto, il cui sostegno per la vicepresidenza a Bruxelles è ora in bilico, e dice non sono io a dover rispondere, ma lei e i cittadini, dettagli, sanità e scuola. Quindi la Meloni dice rispondi su Fitto, perché voi siete contro l'Italia, per colpire la Meloni voi farete e volete fare qualsiasi cosa. Lei evidentemente non vuole rispondere, Elena, e dice che è la Meloni che deve rispondere di fantomatici tagli alla sanità e alla scuola che vi ho raccontato prima. E così Ellis Line si scatena sui social e fa i poster, autonomia differenziata, la Corte Costituzionale ha deciso sulle questioni di costituzionalità, il verdetto, bocciati con la foto di Salvini, Meloni e Tajani in bianco e nero. Allora, ho notato che i politici, quando vogliono denigrare gli avversari, mettono le loro foto in bianco e nero. Allora, sarà anche una tecnica di comunicazione il fatto che mettere l'avversario in bianco e nero, non vi ricordate anche la Ceccardi che metteva, faceva un fotomontaggio, lei ha colori e la Salis in bianco e nero. Oggi la Schlein mette Tajani, Meloni e Salvini in bianco e nero. Bianco e nero, figura grigia, figura vecchia, antica, non lo so, c'è tutta una questione psicologica nel mettere le foto in bianco e nero, però risulta abbastanza ridicola, perché adesso vedete che tutti, quasi tutti i politici, quando fanno un post contro l'avversario lo mettono in bianco e nero. È una roba abbastanza ridicola, insomma. Le tecniche di comunicazione, mettilo in bianco e nero, perché in bianco e nero la gente li vede in bianco e nero. E quindi anche Elena Schlein utilizza le tecniche di comunicazione, mettendo gli avversari, che per lei sono nemici, ricordatevelo, in bianco e nero. Bene, cioè bene è un modo di dire, perché la politica italiana è davvero ridicolissima, ecco, diciamo così. Ma nel video prossimo parleremo di Costituzione, chi l'ha letta, chi non l'ha letta, eccetera, eccetera. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete, dove trovate video come questi, ce n'è almeno uno al giorno. Cercatela, è Teleitalia Seconda Rete, è un altro canale. Molti di voi non sanno che esiste Teleitalia Seconda Rete, e molti che sono iscritti su Teleitalia Seconda Rete non sanno che esiste Teleitalia. È un mondo difficile, evidentemente. Grazie a tutti, ricordatevi che c'è anche su Facebook una pagina che si chiama Luca Vincitore, dove trovate questi video caricati, in modo che, se vi sono interessati, li possiate condividere con chi, caspita, vi pare e piace. Arrivederci a tutti e grazie.